Ancora un assalto ad un'azienda Orafa a Retina. L'ultimo colpo è stato messo a segno circa una settimana fa ai danni di una ditta che si trova in via Gobetti nel quartiere di Pescaiola, immediata periferia a Retina. I malviventi sono entrati in azione di notte mettendo fuori uso le centraline degli impianti per poter così agire indisturbati. Sono poi entrati all'interno dei locali passando attraverso il retro dell'azienda scavalcando la recinzione sfondando una finestra senza grate. Si sono poi accaniti a colpi di accetta contro la centralina del sistema di allarme che comunque poco dopo la mezzanotte è scattato grazie dei sensori nascosti all'interno di un ufficio. Sul posto sono arrivate le guardie giurate e le volanti di polizia che hanno così dato avvio alle indagini. A supporto ci sarebbero anche delle immagini immortalate dalle telecamere interne ed esterne che mostrerebbero almeno tre malviventi a volto coperto. I banditi comunque nel giro di pochi minuti sono riusciti a far razzia di preziosi afferrando il campionario in preparazione sopra ad un banco. Non sono invece riusciti ad aggredire la cassaforte che si trovava ad un paio di metri di distanza. Si sono così dati alla fuga con un bottino che potrebbe girarsi attorno ai 50.000 euro al quali però si vanno ad aggiungere i danni arrecati agli impianti e alle strutture aziendali. E adesso proprio dalla zona in cui si trova l'azienda colpita arriva un appello alle forze dell'ordine e al comune di Arezzo per l'installazione di telecamere di videosorveglianza.